Buonasera, buonasera ai nostri telespettatori e benvenuti al nostro Otto Volante. Un Otto Volante diverso, speciale, particolare, estivo se volete, oppure festivaliero, sì perché vogliamo parlarvi del festival del jazz di Pescara, ma ve ne parliamo come? Ospitando qui una delle stelle della jazz di questo 2015 qui a Pescara, il cattivo del cinema, la nuova voce, la voce di Frank Sinatra, Robert Davi. Eccolo qua, faccio un applauso io a Robert Davi, è un grande onore averlo qui nel nostro studio e io ringrazio per questo il collega giornalista e amico, ma anche musicista, cantante e tante altre cose, Paolo De Carolis. Grazie a voi. E poi c'è un assistente, De Massis, italianissimo, pescaresissimo. Pescaresissimo. Viva in America da dieci anni un po'. Viva in America da dieci anni però sono tornato a pescare, sì. E accompagni questa sera qui con noi Robert Davi, il quale dice così all'inizio, un saluto ai telespettatori. Sì, ciao a tutti Abruzzo e Pescara, è un gran onore per me, tu hai arrivato sul paese, con io nato in America, il mio anima cori in Italia. Ciao a tutti. Ha detto tutto in due secondi. Possiamo andare via a questo punto. No, noi lo vogliamo vedere, ascoltare, diciamo insomma che sabato lui è la stella al festival del jazz e canta Frank Sinatra che ha la stessissima voce di Frank Sinatra. Sì, stesso timbro. The same voice. The same voice. Stesso perché senatore con mezzo siciliano, mezzo genoese e il suo mezzo napoletano e mezzo siciliano e un autore e senatore con un gran artista in cinema, però il suo allenatore in opera è il primo cantatore di popolare. è una combinazione di tecniche di bel canto con il popolo di musica. Perché? So, sono io... It's better in English. In English. Insomma c'è il DNA del cantante. No, c'è anche una scuola che passa attraverso alcuni vocal coach, come si direbbe oggi in America, che hanno anche un po' in qualche modo formato quel tipo di stile, che comunque appartiene alla tradizione culturale del bel canto italiano, l'Italia nel mondo... He studiato con un opera singer. Yeah. Sinatra studiato con un opera singer. I studiato con un opera singer. Tito Gobi in Firenze. Hanno avuto maestri... Sì, aspetta, noi ne parliamo, sta bruciando tutte le domande. Sì, sì. Sta bruciando tutte le tappe. Quiet. Stop. Quiet. Piano piano. Piano piano. We have time. Piano piano. Calma, calma. Allora, Davi, attore principalmente, adesso cantante, regista, insomma personaggio a tutto tondo nel panorama delle arti in America. Allora, attore ed è un cattivo lui. Beh, ragazzi. Non solo cattivo, più romantico. È un cattivo, più romantico. È un cattivo, più romantico. E io ho giocato il buono in una tv serie chiamata Profiler. I was il buono. Ha recitato anche la parte del buono. Parti anche di buono, sì, sì. Ma io mi cuore in canzone. Si realizza con la canzone, anche. Sì, sì. Adesso se dovesse scegliere di farne uno solo di questi mestieri, regista, attore, cantante, quale sceglierebbe? Sì, il cantatore. Il cantatore. Il cantatore. Sì. E allora facciamo una cosa, Paolo, lo dico anche a De Massis, lo vogliamo ascoltare, Davi? Dobbiamo, siamo qui per quello. Allora, ascoltiamo una registrazione fatta negli Stati Uniti con Robert Davi che canta Sinatra. Vediamo. I'll never change my tune. When I'm back on top, back on top in June, I say that's life, that's life, as funny as it seems, you know some people get their kicks, stomping on a dream, but I don't let it get me down, cause this final world keeps spinning around. I've been a puppet, a pirate, a poet, pawn and a king, I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time I find myself flat on my face, I fix myself up and get back in the race, that's life, that's life, I can't deny it. You know I thought of quitting, baby, but this old heart just ain't gonna buy it, and if there's nothing shakin' come this here July, I'm gonna take a big bird and then I'll fly. I've been a puppet, a pirate, a poet, a pawn, pawn and a king, I've been up and down and over and out, and I know one thing, each time I find myself laying flat on my face, I pick myself up and get back in the race, that's life, that's life, I can't deny it, I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it, and if there's nothing shakin' this here July, I'm gonna roll myself up in a big ball and die, my, my. Robert David, that's life, ed è qui nel nostro studio questo splendido attore e splendido cantante, una voce veramente meravigliosa, ma lui c'ha, lo dicevamo prima, il DNA italico e quindi è un cantante nato, il nonno era di Palermo, il padre era di Palermo, la madre era di Nusco in provincia di Avellino. Sì. Nusco ha dato i Natali a un politico. Sì, De Mitte. De Mitte, bravo. Sì, conosci. Ha conosciuto De Mitte, eh? Sì, conosciuto. Sì. Quindi, Nusco è nota per questo, oltre che per essere la patria della madre di Robert David. Sì. And I went from Ischia, then we went to Napoli. Sì. And I had them drive me to... Avellino. Avellino. Lui a 19 anni già cantava. Sì, sì. Giusto? Quando ero 18, ero già cantando. Sì, sì, sì. Ma cantava le opere liriche? Sì, l'opera liriche. Sì, molto piace l'opera. O canzoni popolari. Sì. Napoletane, magari. Napoletane. Sì. È un baritono con il cuore del tenore. Con il cuore da tenore, sì. Perché in l'opera il cattivo è baritono. Sì, sì, sì. So, I love singing the American Songbook in canzoni popolari, because the baritone can still be the romantic. Sì, è un romantic. Sì, è un romantic. Ma i baritoni nelle canzoni popolari interpretano spesso le canzoni romantiche. E quindi, come diceva, arriva da una famiglia che si era data lo spettacolo. La nonna cantava al Teatro San Carlo a Napoli. Sì. E lui diceva prima si è esibito in un provino davanti a Tito Gobi addirittura. Sì, Tito Gobi. Io cantare in America, and I had a difficulty. Like I said, I was singing my higher tessatura. I was singing as a tenor. And I wrote Tito Gobi a letter in Italy. And he wrote me back saying I will be at the Metropolitan Opera in April, doing Tosca Scarpia. He said, this will be my number. Call me at this time period. Un gran signore, Gobbi. Sì, ha detto che ha scritto una lettera a Tito Gobi, gli ha mandato il numero di telefono, l'ha chiamato e gli ha detto guarda io sono lì a fare l'opera, a cantare per l'opera e quindi si sono incontrati lì. E poi l'ho chiamato e ho cantato per lui e per sua moglie. Sì, la sua moglie era la sorella di un gran basso profondo, Boris Christoph. Era la sorella di Boris Christoph. Sì, la sua moglie era famosa. Sì, molto famosa. Quindi ho cantato per l'opera e lui ha detto che c'è una bella voce. Suo padre invece, che cosa faceva suo padre? Cantava, faceva l'attore? Mi padre, un uomo con sogni, ma io non ho realizzato. Ma è realizzato? Ma è realizzato, sì. Qual era il suo sogno? Sogno, attore, cantatore. Cantatore. Ma io papà, babbo e ho molto lavoro con un grande padre. Un grande lavoratore. Grande lavoratore. Big worker. Big worker. Sì, sì. Sì, sì. Il sogno di suo padre lo ha realizzato lei. Il sogno di suo padre, sai? Eh? Fare cantante, fare l'attore. Insomma, fare... Si sta addirittura commovendo in questo momento, Davy, ricordando la sua famiglia. So che da piccolo ha parlato italiano. Sì, sì. Ma lui parlava l'italo-americano, come si usava... Lo slang, no? Lo slang, sì. Lo slang italo-americano. La prima lingua italiana è mio papà. Sì, la prima lingua. In italiano. Perfetto siciliano. Siciliano. Sì, sì. Sì, sì. Mi mamma è napoletana e siciliana. È confusa. Quindi uno slang, quello di broccolino. Sì, broccolino. 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 Come un Kobe broccoli. Tu conosci Kobe broccoli? Sì. Un gran maestro di cinema. Insomma, io vorrei far notare degli spettatori. Un duro come Robert Davy. Che si è commosso ricordando il papà. Si è commosso ricordando la sua famiglia. Ecco, il cattivo del cinema. Ecco, il cattivo del cinema. Posso fargli una domanda? Si vede. Non lo facciamo sapere. Non lo facciamo sapere. Senti, il tuo rapporto con Frank Sinatra invece. Si. Mi first film con Sinatra. I did my first film with Sinatra. Era con Frank Sinatra. Un gran personaggio. Un gran personaggio. And was very helpful in my career. Un buon amici. Un buon amici. Senti, he did beside his Picasso's contribution to La Musica. Sinatra was a man that gave a huge social contribution. era il primo cantante, actor, super star, a venire contro la bigotia raciale e l'anti-semitismo. Un primo. Un grande maestro di giustizia sociale. La giustizia sociale delle razze, anche per il fatto delle minoranze. E questo è un grande effetto per me. Inoltre la musica, ho deciso di mostrare, perché era mio amico, una parte di Sinatra che non parlano molto. Una parte di Sinatra che nessuno sa. Gli ha mostrato dei valori della vita, non solo da cantante ma anche da attore. Da uomo. Come si fa con gli amici. Cosme si fa con gli amici. E per gli italiani immigrati in America, ha dato una grande dignità per tutti gli italiani. Ha dato dignità e aiuto, anche aiuto morale. La riconoscibilità della bontà delle persone, dei lavoratori che si sono rimboccati le mani, che hanno anche scalato posizioni di successo in America, come lui stesso, come tanti altri personaggi che dall'Italia sono partiti. Tanti abruzzesi, ricordiamolo perché l'Abruzzo è terra di emigrazione. Come no? Molto. Cugini primi che vivono in America sono andati lì con i fratelli di mio nonno, sono rimasti lì, vivono tra Philadelphia e New York, tantissimi a Baltimore, ci sono tanti italiani in tutta America. Ma c'è stato quel grande momento di emigrazione nel Novecento che poi ha fatto una generazione di geni come la loro. Questi sono veramente grandi ambasciatori. Abruzzo, molti personaggi hanno origine abruzzesi, personaggi dello spettacolo, di Martin, ma anche di Martin, io parlo di personaggi che hanno avuto fortuna. Guarda, faccio una citazione per ricomo, con gran Abruzzo, Dina Martin, la figlia di Dina Martin, con gran amici miei. Dino Crocetti, di Montesilvano, però faccio una citazione che è più sfugge e che è difficile da trovare. In occasione del funerale di Kennedy, il direttore di quella banda che accompagnò il feretro era un abruzzese illustre, un grande direttore d'orchestra, che si chiama, non so se vive ancora, Rocco Valente, Rocchi Valente, è stato un grandissimo musicista, ha partito anche lui da queste parti, credo dal Terramano, ma ha fatto una grandissima carriera fino ad accompagnare, certo nel momento, però è stato un grande musicista. Grandi suonatori che sono partiti dall'Italia e hanno trovato fortuna in America, dobbiamo dirla, l'America è stata davvero una grande madre per quegli europei e soprattutto per quegli italiani che, insomma, nei momenti difficili cercavano fortuna. All'America bisogna dire grazie. Bisogna dire grazie, bisogna dire che hanno potuto esprimere il loro talento nella massima libertà. Sì, quando qua c'era fame, lì c'era benessere. Robert Davi, i cantanti italiani che lei ha ascoltato, che preferisce, perché insomma, al di là di Frank Sinatra, in Italia, chi sono quelli che lei considera in qualche modo personaggi? In singers? Sì, in singers. Molto. Of course, Bocelli. Bocelli, era in Ischia. Stava Ischia? I also had dinner with him in Los Angeles, but Bocelli, I like Zucchero, Adriano Celantano, of course, Tio Tony Reines. Zio! Quando, quando? Ho letto che gli piace molto Paolo Conte. Paolo Conte è molto grande, mi piace molto. Quando registri il mio film, un gran, I was in the Roma Fest. Sì? The Duke. The Duke. I have to thank Piero De Tassis. Because of Tony Reines, he heard about my film, told Piero De Tassis, and I come to Italia in the Roma Fest. Then Ezio Greggio brings me to Manico, un gran person and a friend of mine. La Porta da Monaco, ho capito, Ezio Greggio. Mi piace la cinema italiana, Falini, Rosalini, De Sicca, Mario Monacelli, Ettore Scolo, un gran Ettore Scolo. Tutti riconosce. Tutti riconosce. Lui è a sangue. Però ho letto che preferisce molto i film comici, che fanno ridere. Totò, per esempio. Totò, un gran Totò da Napoli. Sì, il Conte, no? Totò. Il Conte. Poi ho letto pure che gli piace il nuovo Cinema Paradiso, i Vitelloni. Sì, lui... Perciò ricordava prima Flaiano. Flaiano, sì. Flaiano, un gran maestro di cinema. Otto Mezzo. È una brucesa, Pescara. È andata a Pescara, sì. I want to go to see his... His house. Vedere la sua casa. È andata a vedere la sua casa. La Dolce Vite, I Vitelloni. Sì, è andata a vedere la sua casa. Sì, è andata a vedere la sua casa. Sì, è andata a vedere la Dolce Vite, I Vitelloni. Ieri sera. Ieri sera. Quindi, già ha visto la casa di Flaiano? No, la dobbiamo portare. La dobbiamo portare. La dobbiamo portare. La casa d'annunzio. Sì, la casa d'annunzio. La portiamo a Corso Mantua. Sì, denunzio un gran emarata di un gran attrista. Scrittore, sì. Sì, scrittore, but he had a love affair with Eleonora Dusa. Sì. Un gran love affair. Ha avuto un grande... Non solo Eleonora Dusa. Arriviamo a Caruso. He was a big bloody lover. Yes, I know, but he broke her heart. But that's what made her, when he broke her heart, that's what made her in Granada. Adesso arriviamo a Caruso, praticamente. Sì, tra un po', so. Facciamo tutta la scala. Però bella quella immagine che ha dato di Frank Sinatra, no? Frank Sinatra ha visto come questo monumento alla musica e alzio. Monumento che ha, nel privato, caratteristiche diverse. E' uscito un uomo veramente dipinto a tinte veramente molto forti. Umane, umane. E io voglio dire anche J-Ax, un grande amico mio. J-Ax, con il quale ha fatto un disco, un videoclip insieme. Sì, sì. Io voglio ascoltare ancora Frank Sinatra. Vogliamo farlo? Chi è? Voglio ascoltare ancora Frank Sinatra. Ossia, Robert Davi che canta Sinatra. Vediamolo. I've got a song that I sing, I can make the rain come rain. Come shine, I meet you and to me the world is fine. Then I kiss your lips and the pounding becomes the ocean's roar. Ooh, when you were out and needed me, my heart says, yes, indeed it me, proceed to tell you that you're marvelous, tell you that you're wonderful again. The autumn wind and the winter winds, they have all come and gone. Come fly with me, let's fly, let's fly. Pack up and fly away. Wait till you see that sunshine place. There ain't nothing like it here. The best is yet to come and babe, won't it be fine? Luck be a lady tonight. Luck if you've ever been a lady to begin with. We're on that road to romance. That's safe to say, but let's make all nice work if you can get it, and you can get it if you try. Just imagine someone waiting at the cottage door, where two hearts become one who could ask for anything more. All the way, where two hearts become one who can get it, and you 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 can get it. It's been interpreted by Robert Davy, and it's difficult to distinguish, as we said here, while we were in the film, the original voice of Frank Sinatra is from his own. It seems like it's the same double. It's crazy, because if you close your eyes and listen to these songs, you can really get it to understand that it's not Sinatra. Ma il timbro è particolarissimo, sembra quasi lo stesso apparato vocale di Sinatra. Avete visto durante l'esibizione delle recensioni di giornalisti, di giornali, di critici, che commentavano i brani e le esibizioni di Robert Davy in questo videoclip. Mostruoso. 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 Sono incantato dalla voce di Robert Davy. Grazie, grazie, grazie. And I want to thank, piace Luca Fumo. Lucio Fumo. Lucio Fumo. Lucio Fumo. Lucio Fumo, perché è il mio primo concerto in Italia. Il primo concerto, la prima data importante in Italia. Un artista così, che arriva così importante, così conosciuto, che arriva in Italia dopo tanti anni per la prima volta a Pescara, è anche un merito che va all'organizzazione e per noi motivo di orgoglio. Infatti alla presentazione, lui ha un volto conosciutissimo, attore famosissimo, si stentava a capire chi fosse anche un cantante, che potesse anche cantare. E invece lui canta, poi recita, prima canta, prima canta, poi recita. Diceva? And then, also, part of my band, I'm having the quartet, but a guy, Emilio Radecchio, da Abruzzesi. Ah, composto da Abruzzesi. No, arriva uno dei quattro del complesso con quale suonerà. Emilio Radecchio, un gran vibrofonist nel mondo, in tutto il mondo. Come si chiama? Emilio Radecchio. Emilio Radecchio. E' l'unico che è rimasto della banda di… lui suonava anche con Frank Sinatra prima. Ah, direttamente. 1959, è l'unica persona vivente che lavorava con Sinatra. E' l'unica persona che è rimasta vivente che lavorava con Sinatra. E' l'unica persona che è rimasta vivente che lavorava con Sinatra. Quando veniva all'Italia con una sesta. Sinatra veniva con una sesta un paio di volte in Italia e era su televisioni, su TV. TV shows. The last time Sinatra was in Torino, 1986. 2006 o… 1986. Che fece un concerto a Torino. Fece un concerto a Torino. A Torino. Sinatra e portò questo vibrafonista… Sì, sì, sì. Lui è l'unico rimasto comunque della banda. Sì, dal 59 che suona con… Sì. È un abruzzese, ma non so di dove. Neanche io so di dove. Pescara. Ah, è di Pescara. Sì, è di Pescara. Addirittura. Abbiamo avuto una notizia anche che non sapevamo. E quindi sarà… Allora, Robert David a questo punto, la prima volta che canta a Pescara, poi continuerà il suo tour in Italia, no? Sì. No, I have to go to America. O America. Sì. And then I have to do a few concerts in America. And I filmando. And then ritorno. Deve andare a cantare a Nusco. Sì, sì. a qualche punto. Oh, Palermo. Palermo. Well, I'm from here. I go to Palermo. Ah, dopo di qua. To Torretta. Sì. To meet the beautiful people of Torretta. They're making me an honorary citizen of Torretta. Gli danno un onore, il 20 arriva a Torretta. Ah, la cittadinanza onoraria. La cittadinanza onoraria, quindi… Andrà a parlare con il sindaco, quindi faranno la cittadinanza onoraria. Torretta? A Torretta, sì. Torretta. Quindi vicino a Palermo. Vicino a Palermo, sì. Con la macchina. Bene. Io potrei concludere qui. Volevo soltanto chiedergli qualche cosina sulla sua attività di attore e di regista. Che sta facendo in questo momento, oltre a cantare? Sì. Due scritte. Sì. Una è finita. Sì. E una nuova che ho scritto, che ho sperato di filmare in Italia. Sì. Ho un'idea per la… filmando in Italia. Un'idea interessante. Una storia interessante che girerà in Italia? Sì. Praticamente ha già un film completo che ha già scritto. Ne vuole scrivere un altro e questo qui lo girerà specialmente in Italia. E avrà degli artisti e attori italiani pure. Duke è andato bene. Duke sta buono. Eh? Sta buono. Sì, sì. Magari in Abruzzo. Girare qualche scena in Abruzzo. Sì, sì. Nel film stiamo mirando per una particola cosa di italiani. Non lo dirò perché non voglio dire la storia. Ha detto che non ci dici. Non vuole dirlo ora, però… Ho viaggiato in tutte le regioni d'Italia per trovare questa specialità. Particolarità. E diventa romantico. Romantico, comedia… Italiano. Sì, sì, sì. Poi allora lui si è sdoganato adesso. Sì, sì, oramai. Il cantante Frank Sinatra si è sdoganato. Non è più il duro, il cattivo. No, no. È buono, è buono. È buono. Il cuore è buono e poi il cuore degli italiani. Ma non ricordi, ricordi questo. Calma, eh? Sì, il cattivo anch'io. Qualche volta. Perché solamente due cantatori quando dice I break your leg e creo. Sinatra… Sinatra say I break your leg, you believe it. Se ci crede. Quando io break your leg. Eh… Take care. Perfetto. No, no, no. Davide, salutiamo chi ci ha ascoltato, i telespettatori, gli italiani, gli abruzzesi in modo particolare. Facciamo un saluto? Sì, saluto gli abruzzesi, tutte le persone in Italia perché è molto, molto simpatico. Quando… Qualcuno che mi incontro è molto, molto aperto e mi sento come tutti i micuccini. Sì, grazie. Siamo tutti parenti. Siamo tutti parenti. Vieni a cantare, io voglio un canto mio cuore per lui. Grazie, grazie a De Carolis, grazie a Robert Davi, grazie a De Massis per la partecipazione. E allora, questo era Robert Davi che canta Sinatra, festival del jazz di Pescara, grande serata per una stella del cinema che è diventato un grande cantante. Grazie dalle spettatori, ci vediamo nelle prossime occasioni con Otto Volante. Arrivederci.